Claudio Trotta, giovanissimo che oggi ha giocato entrando al posto di un mattatore, hai lottato, hai tenuto la palla alta e la Massese ha portato a casa questi tre punti importantissimi, fondamentali. Sì, sono molto contento dei tre punti portati a casa dalla Massese, sono molto importanti, dovremo lottare ogni domenica per portare a casa il bottino pieno, per il resto sì, sono contento di essere entrato, mi ha lasciato il posto Gian e sappiamo tutti, è fortissimo, fa sempre go io, sono arrivato qui, ha fatto due partite e quattro reti, che devo dire? Adesso ovviamente aspettiamo che tu riesca a raggiungere la forma fisica ottimale per cercare di aumentare anche il minutaggio in campo, aumentare il numero di minuti nei quali giocherai, a che punto sei della tua forma fisica? A che punto sono? Sono l'ultimo arrivato, lavoro ogni giorno in settimana per raggiungere il top della mia forma ideale e poi comunque rimane al mister decidere il minutaggio da farmi fare durante le partite, io lavorerò sempre al massimo per raggiungere il top, lavorando in allenamento, poi vedremo le scelte che farà il mister. Il tuo obiettivo a breve? Non so, magari riuscire a partire anche titolare una volta? Sì, quello sicuramente è il mio obiettivo, è importante comunque il bene della squadra, vincere, fare sempre tre punti, riuscire a vincere la categoria e chissà magari segnare un gol in queste poche partite che faremo. Grazie mille, bocca al lupo.